questa macchina questa diciamo tua appendice questa tua seconda dimensione la vogliamo andare a vedere direi di andarla a vedere poi di fare un giro perfetto e sentiamo subito il fragore del motore questo è un motore questo è 4.500 8 cilindri 570 cavalli la macchina già è calda è caldo hai detto prima di partire vado a preparare la macchina perché ha bisogno di questa preparazione perché la macchina è importante tenerla scaldarla e portarla a temperatura perché tutti i liquidi e le centraline devono essere scaldate i primi e resettate le seconde quindi la macchina adesso è pronta abbiamo tolto l'automatico inseriamo la prima e si va e questo è il volante dà l'impressione di una sorta di centralina elettronica è un multifunzione come vedi non c'è più è tutto intorno al pilota non serve più staccare le mani dal volante bene possiamo partire siamo su un circuito urbano vicino appunto a il tuo club passione ferrari siamo a roma ovviamente siamo adesso siamo in prima adesso siamo in prima la velocità chiaramente siamo in città quindi ciò rispettiamo le dall'agole il geliebidi.